Oroscopo del giorno, lunedì 9 novembre 2020 Ariete Amore, questa giornata sarà indubbiamente interessante e il vostro umore sarà piuttosto buono. Chi è impegnato in una relazione di coppia potrà vivere un buon rapporto equilibrato ed armonioso con il proprio partner. Un lunedì niente male. Lavoro Agirete con determinazione e cercherete di tenere ogni cosa al suo posto. Toro Amore Forse non sarete bravi con le parole e avrete delle difficoltà a esprimere quello che provate nei confronti di una persona. In questa giornata le cose non sembreranno così semplici e chiare. Probabilmente ci sarà bisogno di riflettere meglio su alcuni aspetti. Lavoro Se avete un progetto di lavoro in mente vi occorrerà una particolare forza per riuscire ad ottenere dei risultati. Gemelli Amore Giornata perfetta ed equilibrata dove nulla potrà andare storto con i sentimenti e i rapporti affettivi. Dovrete agire seguendo il vostro istinto perché vi servirà. Il vostro comportamento sarà buono e piacerà pure alla persona che avete accanto. Lavoro Adotterete un modo di fare che entusiasmerà anche chi lavora con voi. Le cose andranno come devono. Cancro Amore La settimana partirà con il desiderio di esprimersi liberamente e di condividere idee e pensiero con il partner. Non mancherà un pizzico di agitazione ma sarete in gamba e controllerete al meglio ogni emozione. Lavoro E' il momento di credere fino in fondo nei progetti anche perché le energie di oggi saranno alte. Leone Amore In questo lunedì di novembre sarete aperti alle discussioni perché per voi sarà un aspetto essenziale esprimervi. Vorrete capirne di più e parlare con chi amate vi aiuterà senz'altro a comprendervi al meglio. Non è detto che tutto sfocerà in un litigio. Lavoro Agirete con intelligenza e difficilmente ci saranno disagi di tipo professionale. Vergine Amore In questo momento dovrete cercare di tenere i piedi bene incollati per terra e non pensare esageratamente al domani. Dovrete dare la giusta attenzione a quelle situazioni che vi rendono sereni e mettere da parte le cose negative. Lavoro Oggi vi sentirete più ottimisti riguardo alle vostre possibilità e al vostro talento personale. Bilancia Amore Attenzione a questo primo giorno della nuova settimana di novembre. Dovrete mettervi alla prova e dare delle risposte a chi vi sta accanto. Probabilmente vi troverete al centro di un dibattito ma ne uscirete con positività. Lavoro Occhio a chi vi dà contro. Non fatevi ingannare in alcun modo se siete certi di non avere torto. Corpione Amore In questa giornata probabilmente avrete parecchi pensieri per la testa che vi porteranno un po' lontano. È per questo che oggi vi sentirete un po' distratti e non adatti a determinate situazioni. Le discussioni non faranno per voi. Lavoro Le idee e i progetti hanno bisogno della giusta cura, di passione e ottimismo. Tagittario Amore Questo lunedì sarà fantastico per chi ha un rapporto di coppia. I sentimenti e le emozioni saranno particolarmente alti e forti e sarebbe un peccato non approfittare di queste stelle. Ottima pure la comunicazione con il partner. Lavoro Le energie di oggi saranno interessanti anche se con la mente sarete più concentrati sulla sfera intima. Capricorno Amore Questa non sarà una giornata troppo ricca di novità per le relazioni, ma sicuramente avrete il vostro da fare. Dovrete tenere presente che sentirete la necessità di dedicarvi e impegnarvi in tante questioni, anche quelle amorose. Lavoro Darete prova della vostra incredibile determinazione, soprattutto se ci tenete davvero ai vostri sogni. Acquario Amore Questa giornata sarà importante e potrete dedicarvi alla riflessione per avere le idee più chiare. E' così che vi renderete conto che, probabilmente, sarà necessario modificare alcune cose, magari proprio riguardanti il rapporto d'amore. Lavoro Forse non tutti condividono le vostre idee e la vostra creatività sul posto di lavoro. Pesci Amore Il vostro modo di relazionarvi con gli altri sarà fantastico, tanto che niente andrà storto con gli affetti. Sarete in grado di toccare tutti gli aspetti più profondi e colpirete il vostro partner. Pochi problemi, tanto cuore. Lavoro Occhio perché alcuni compiti o progetti potrebbero non andare esattamente come vorreste. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Occhio